What are you guys doing? Il vino Nicole dice che io l'ultima volta ho usato la macchina la sua macchina praticamente 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 non troviamo più le chiavi della macchina Nicole ora stiamo usando le chiavi di scorta mi ha detto che sono io sono io l'ultimo che ha usato la sua macchina a Capodanno giorno di Capodanno non so dove e ora sto diventando pazzo perché non riesco a trovare ehm e ora sto diventando pazzo perché mi stanno facendo fare un po' di palestra ok, tu puoi capire Rudeo segue . . . . . . . . . And Student Mamma, suonisci come me! Il colfiero in family sta andando a fare colazione. Non sono riconosciuto a trovare le chiavi di questa macchina. Ora sono in una missione speciale per trovare le chiavi. Beh, dove ti metti la chiave di questo caro? Mi ha scolgato, mi perdono tutto e poi mi perdono per perdere. Tu sei molto bello! Tu sei molto bello! Io ti amo! Questo è il nostro posto preferito per fare colazione. Colazione in questo posto è sempre buonissima, ragazzi! Wow! Ora andiamo a vedere la scuola delle bambine che inizieranno a settembre. Quindi è l'asilo. Sono troppo esaltato. Che soprattutto è gratis. Quindi sarà da videre. Allora, andiamo! Questa è la scuola delle bambine per il prossimo settembre. Incominceranno di dietro. Questo è kindergarten, si chiama qui. Quindi come elementari. No, l'asilo. Nido. E poi più avanti e andranno in questa scuola. E questa è la scuola delle pistoline. Questa è la scuola delle bambine per il prossimo settembre. Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Bene, Nicole! I'm gonna go one second over there! Questa è la scuola principale. Poi... Hey, I'm here! E poi invece dove andranno Lele in Emilia è kindergarten. Quindi è l'asilo qui. Infatti appena siamo arrivati ho detto Ma Nicole sei sicura che non sono troppo piccola per andare a una scuola così grande? Le mie piccole piccole bestie diventano grandi. Andiamo avanti. Siamo curiosi del tuo canale YouTube. Oh, sì, è in Italia. 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 Oh, davvero? Sì. Fa stare bene vedere una cosa del genere. Pulita, in ordine, come si deve. Oh! Oh, e' in questo house! Oh! The rainbow flower. Yeah! And I'm gonna pick these ones for us. I'm gonna pick these ones for us. These ones! Oh, you've got more friends? Lele and Emilia, sono disperatorze, scuola dai. No! Solo 4. La Lele, let's go! Let's go. Follow me. E.I.Y. siamo tornati bellissimo il mio posto preferito al mondo dopo un depo purtroppo devo dire che un depo è ancora uno tra i migliori quando si va con Elena Emilia e Nicola è un casino fare queste cose veramente un bordello ai fa così caldo oggi che siamo in costume fa veramente caldo ragazzi facciamo una pizza italiana ragazzi. Ora facciamo la pizza alla italiana in America. Emilia, do you want to help me? Nooo! Ok, ok. Questa è una bella...quindi pizza, si mette la salsa, questa è salsa di pomodoro naturale. No, it goes like this. It's a dairy, it's a dairy. Da. No, you know what, I'm going to do, I'm going to do. Oh, you want to have salami, you want to put it right here? Quattro stagioni, four seasons. Are you okay with that? Tomato. Tomato. I'm going to put some pepper on it. I got some. Is the top one? I think it's... Bianco, rosso e verde. That's not bad. Si mette il formaggio prima o dopo. Do you like Amy? Maybe some onion. Buongiorno! Ci vuole un po' di olio, giusto? Olive oil ci vuole. E' una pizzerata pizzeria. E' una figata, è divertente. I gotta do one thing, one second, girls. Trito, just eat not too much. If you want, I can't even say this. And they do like this on top. Can I see this? Your pizza almost ready? Pizza. It's why a professional is that professional. And we go together. Oh, actually, it's okay, it's okay. No, it's okay, it's okay. In qualche maniera l'abbiamo fatta, non è malvagia, diciamo che è la pizza... Fantastico! Yeah, thank you. E andiamo così, vai! Joe, guarda come faccio la pizza. Joe, beccati questa. A pizza! Oh, look at that. It's pretty. Nice. Perfecto. Barabim, baraboo. Quindi abbiamo fatto una salami con peperoni, funghi, olive. E andiamo. We'll put captions in under this. Hello, viewers! Come state? Come stai? Walter Golfieri. E' divertente fare la pizza. Non l'ho mai fatta la pizza, quindi è la prima volta in vita mia che faccio la pizza.